La fortuna del nostro lavoro è quella, come dire, di andare a scegliere gli ospiti e quelli che, come dire, più ci piacciono, più ci interessano, li contattiamo, li facciamo in studio? E una di queste è Giusy Versace, benvenuta. Ciao. Ciao Giusy. Giusy Versace, tu nel 2005 hai scritto questo bellissimo libro dove racconti la tua storia. Nel 2005 hai subito un bruttissimo incidente d'auto e a causa di questo incidente tu hai perso entrambe le gambe. Da lì, come dire, parte un percorso difficilissimo, durissimo, però tu hai scritto questo libro, La storia della mia nuova vita. Quindi da lì riparte una tua nuova vita. Eh sì, io, come ho scritto nel libro all'inizio, la mia vita è divisa a metà, c'è un prima e un dopo. E il confine è proprio il 22 agosto del 2005, un guardrail che sfonda l'abitacolo della macchina e mi trancia entrambe le gambe. Però questo libro che io amo definire un po' un diario, è stato sicuramente per me anche terapeutico, perché ho tirato fuori tante cose che pensavo magari di aver superato, invece poi parlandone mi sono resa conto che ancora facevano male. Però principalmente ho pensato che potesse servire da stimolo anche per altra gente, perché io attraverso una tragedia ho tirato comunque fuori... Non solo disabili? No, no, assolutamente no, perché io ho dovuto toccare con mano la disabilità per rendermi conto di tante cose, però non c'è bisogno di arrivare a questo, basterebbe fermarsi un attimo tutti noi per rendersi conto davvero di quante cose belle ci sono nella nostra vita, che abbiamo e che magari nella quotidianità diamo per scontate e non gli diamo probabilmente il giusto valore. Io mi sono dimenticata di dire la cosa più importante, cioè che tu sei una bravissima atleta paralimpica e che cinque giorni fa hai vinto sui 200 metri, no sui 200 metri, su entrambe le distanze, su entrambe 100 e 200 metri i campionati italiani paralimpici e su tutte e due le distanze, quindi tu sei una velocista, il record italiano è ottenuto. Io ho seguito per anni lo sport e queste cose le fanno i grandi campioni. Dietro c'è tanto lavoro, insomma sai, poi lo sport paralimpico è ancora poco seguito e tante volte uno ti vede correre con queste protesi, con questi piedi in fibra di carbonio che sembra quasi che molleggino e saltellino da sole, ma ti garantisco che poi prese sono... Non è semplice. Non è semplice, devi imparare a usarle, comunque ti ridanno indietro una risposta che tu poi devi anche saper gestire. Dietro c'è tanto allenamento, tanta fatica... Ma tu eri una sportiva anche prima, cioè facevi sport anche prima ad alti livelli come adesso? No, no, mi piace definirmi sportiva come tanti, perché mi piaceva fare aerobica, spinning, amavo giocare a tennis, sono comunque tutte cose che oggi, ahimè, non posso più fare. Poi ho scoperto che potevo correre e ho scoperto quanto è bello correre e questa cosa mi trasmette talmente tanta gioia nel sacrificio comunque, perché è sacrificante andare a correre d'inverno soprattutto con la nebbia, con la neve, con la pioggia. Però poi torni a casa con una carica in più. Io mi sento viva, quando corro non mi sento invalida e questa è una cosa bellissima e mi piace raccontarla perché vorrei che la gente si approcciasse allo sport perché fa proprio bene. È una grande terapia penso per tutti, non solo per chi come me vive un handicap. Allora questa è la Giusy Versace, una nuova vita posso dirlo? Sì. Però tu per arrivare a questo risultato hai veramente lottato con le unghie e con i denti perché tu di punto in bianco, una bella ragazza, hai un lavoro bello, un lavoro che ti piaceva, in quale tu eri proprio pienamente immersa e ti ritrovi senza niente perché le gambe per assurdo servivano a tutto questo, erano proprio indispensabili e quindi da lì ti sei proprio dovuta rimboccare le maniche e reinventare tutto. Sai, spesso mi sento dire, vabbè te sei una Versace, per te è tutto facile. Io ho voluto scrivere questo libro anche per questo, per far capire che non è un nome, una posizione che ti preserva in qualche modo dalla sofferenza. Noi davanti a Dio siamo tutti uguali e anche tutti piccoli e se troviamo la forza di rialzarci e di combattere lo facciamo per quello che abbiamo dentro. Io ho avuto dalla mia una grande fede che sicuramente mi ha aiutato intanto a non arrabbiarmi con la vita. Io oggi non posso che ringraziare, ho pregato tanto e io ringrazio Dio perché comunque quel giorno che non ho perso i sensi ho pregato per vivere, io non volevo morire. Tu sei rimasta cosciente tutto il tempo, è arrivato l'eleambulanza, i soccorsi e tu hai sempre, tu ricordi tutto perfettamente. Tutto, io ho raccontato ogni dettaglio nel libro proprio perché ho sofferto tanto, ho faticato tanto e non avevo neanche idea di che tipo di autonomia avrei potuto raggiungere perché di fatto io non sapevo neanche che cosa fosse una protesi, non ne avevo neanche idea. Mi ero immaginata tutta la vita su una serie a rotelle. Quanto tempo ci hai messo tu per iniziare a camminare? Perché non è che io, non lo sapevo, devo essere sincero, ma io pensavo, io compravo le protesi, facevo una prova. Eh sì, come un po' di scarpe in un negozio. E invece ho capito che ci vuole tantissimo tempo, tanta tenacia e non tutti ce la fanno. Tanto allenamento perché comunque poi sai… Ma non per gareggiare, proprio per camminare. No, no, per camminare. Ma io devo dire che sono anche una molto esigente, una precisina. Io volevo, non mi accontentavo di imparare a camminare e basta, io volevo camminare bene. Quindi ho seguito proprio un addestramento, amo definirlo, militare, perché comunque ho avuto dei fisioterapisti, uno in particolare, Matteo, che mi bacchettava dalla mattina alla sera dicendomi come dovevo tenere le spalle, come dovevo stare in equilibrio, come mi dovevo rialzare da terra se fossi caduta, come dovevo fare le scale, perché anche per fare le scale c'è un modo particolare per appoggiare il piede. E' comunque un'arto artificiale, devi imparare a usarlo. Io in tutto ci ho messo un anno e mezzo per abbandonare definitivamente stampelle, bastone. Di fatto mi hanno messo in piedi quasi subito dopo un po' di mesi, però il dolore era, insomma, si sentiva. Comunque mi stancavo, non ero resistente, non ero forte, dopo un paio di passi mi dovevo sedere, sicuramente non ero in grado di stare al supermercato in fila. Ecco, appena vedevo una panchina o una sedia subito, insomma, me ne appropriavo perché mi stancavo parecchio. Anche adesso cerco chiaramente di non stancarmi troppo perché le vescichette, le feritine tutt'ora ci sono. Però ti sai gestire. Diciamo che ho imparato a gestirmi. Senti, invece, proprio mentre tu lottavi per tornare a camminare, pensavi a quello che avevi lasciato, a quello che non c'era più. Questo non ti dava dolore? Non guardavi, non ti giravi mai indietro a vedere quello che avevi perso? Sì, però non amavo far soffrire le persone che erano accanto a me. Io ho sempre avuto accanto mia madre molto sorridente, mio padre carico di speranza, mio fratello che era molto preoccupato ma non lo faceva vedere. Io per caricare l'oro caricavo me stessa quindi non mi sono mai guardata indietro, ho sempre guardato avanti dicendo ce la possiamo fare, la vita è bella, comunque non fa niente, troveremo una soluzione. Ma nessuno si immaginava che dopo sette anni sarei arrivata dove sono arrivata, nessuno sapeva che tipo di autonomia avrei potuto raggiungere. La fede ci ha aiutato in questo. Una frase a me mi ha particolarmente colpito è che io condivido al mille per mille, quello che non uccide rende più forti. È vero perché tutti i problemi che magari nella vita di ognuno di noi che siamo stati costretti ad affrontare ci siamo sempre trovati dopo più forti di prima. Io sicuramente sì, purtroppo ho incontrato delle persone che non ce l'hanno fatta, che sai è sempre comunque molto difficile convivere con un handicap, in particolare se questo ti colpisce in età adulta. Fa sempre male vedere i bambini, però paradossalmente i bambini si abituano più facilmente alla nuova realtà, alla nuova normalità, alla nuova condizione. Un adulto fa più fatica perché deve fare i conti con il prima. Io vivevo sola da dieci anni, avevo 28 anni quando ho perso le gambe e mi sono ritrovata a 29, a 30 ad aver bisogno di mia madre per fare una doccia o per andare a dormire o di mio padre la mattina per montarmi, per mettermi le gambe perché comunque erano pesanti e da sola non sapevo incastrarle, non le sapevo mettere. Sono stati dei momenti veramente difficili, non a caso metà del libro parla di quanto io abbia faticato a raggiungere, a ritornare ad essere autonoma. Io comunque oggi sono tornata a vivere da sola, ho imparato a fare la doccia da sola, sono tornata a guidare, guido anche lo scooter, non mi faccio mancare niente, sono tornata a fare tante cose ma perché io non accettavo non tanto l'idea di aver perso le gambe. Io ero terrorizzata all'idea di dover dipendere da qualcuno per il resto della vita, quindi la forza più grande che ho tirato fuori è stata quella di tornare a fare quante più cose possibili da sola. Senti mi parlavi prima della tua fede che è stata per te un ancora di salvezza, ma è vero che tu sei stata a Lourdes per ringraziare e adesso sei volontaria dell'Unitalsi. Sì, avevo fatto un voto e avevo promesso che se fossi tornata a camminare sarei tornata a Lourdes per ringraziare, l'ho fatto, mi sono sentita comunque scarica. Ma quando sei andata camminavi bene oppure? No, zoppicavo, mi appoggiavo un po' alle stampelle, un po' di sedia a rotelle. Camminavi? Stavo in piedi, camminavo e poi comunque è stato molto bello il fatto che io davanti a questa statua ho pianto tanto perché lì mi sono anche un po' lasciata andare, mi sono sfogata e mi sono chiesta finalmente a voce alta perché a me, che ho fatto di male. Perché quando capitano queste cose ti arrabbi, un po' viene fuori la rabbia e Lourdes è stato sicuramente importante perché io lì ho imparato a girare la domanda. Allora, non anticipare questa domanda che tu sei stata bravissima a rigirare ma non è solo merito tuo. No, assolutamente. Allora, tu in occasione della fiaccolata bellissima della Flambeau a Lourdes hai parlato, hai dato la tua stimonianza ai fedeli presenti a Lourdes. Quattro anni dopo. Quattro anni dopo. Dopo essere stata diventata volontaria dell'Unità Alzi ho scoperto quanto è bello condividere con gli altri le cose belle che fai, quanto è bello regalare un sorriso. Questo l'ho scoperto grazie all'Unità Alzi, grazie a Lourdes perché dall'anno successivo in avanti sono tornate a Lourdes sempre come volontari a lavorare. Andiamo a vedere allora adesso quando Giussi, rivolta ai pellegrini presenti a Lourdes, dà la sua testimonianza. E attenzione all'ultimo passaggio, quando la domanda viene ribaltata, ma non è merito suo. Io sono Giussi Versace, per me è molto emozionante essere qui stasera perché ho avuto un brutto incidente in macchina cinque anni fa, ho perso tutte e due le gambe. E quattro anni fa ero seduta in una di queste prime file su una carrozzina proprio come molti di voi. Oggi dopo quattro anni sono qui in piedi e vi racconto cosa ho fatto. Ho pregato tanto, avevo fatto una promessa, se fossi tornata a camminare sarei venuta a Lourdes a ringraziare la Madonna. Trovarmi davanti alla grotta è stata un'emozione incredibile. Ovviamente ho pianto, ovviamente il dolore non si può raccontare. Chiunque di voi ha subito o sta vivendo un momento difficile lo sa, ma mi sono sempre chiesta perché è capitato proprio a me, che ho fatto io di male. Poi ho guardato la statua della Madonna e sembrava come se mi stesse parlando e mi ha detto, gira la domanda, perché non a te? Che hai tu più degli altri? E questa è la domanda. Stiamo un po' emozionati, vabbè. Eh, ma io questo video era, non lo vedevo da un po', ma tutte le volte mi emoziono perché effettivamente per me è stato intanto un grande onore che l'Unitalsi mi abbia chiesto di fare questa testimonianza, poi trovarmi in piedi, quattro anni dopo raccontare come avevo trovato la forza di rialzarmi. No, ma poi c'erano quindicimila persone, non erano mica poche, mi tremava la voce, questo si sentiva. Vedere quelle sedie a rotelle lì davanti e pensare che quattro anni prima io ero seduta lì come loro è stato davvero molto emozionante. Gira la domanda, perché non a te? Che hai tu più degli altri? Questo è stato quello che io mi sono sentita in qualche modo sussurrare all'orecchio e io sono convinta che la Madonna mi ha in qualche modo parlato. Perché effettivamente è così, noi ci sentiamo superiori per tanti motivi, viviamo comunque in una società dove basta che ricopriamo dei ruoli di un certo tipo o abbiamo delle cose materiali di un certo tipo che subito viene identificato uno status che in qualche modo sembra quasi ti debba preservare da qualsiasi cosa. Poi capitano le disgrazie, scoppiano di salute e invece te che non hai fatto mai del male a nessuno, perdi le gambe, in effetti non ti dai pace per questo. Però io ho scoperto più che altro che non c'è un perché. Le cose capitano e basta e secondo me noi non dobbiamo passare, sprecare il tempo e chiederci il perché è capitata una cosa. Capita, le cose capitano, io sono molto fatalista, ho pensato tante volte a che cosa avrei potuto evitare quel giorno, probabilmente nulla, probabilmente se non fossi partita quel giorno mi sarebbe capitato in un altro momento. Allora mi viene da dire meglio così, va bene così, con la testa e con il cuore si va ovunque, le gambe ci accompagnano. Per fortuna anche se sono gambe finte ho imparato a usarle e allora io credo che quando abbiamo il cuore pulito e la testa forte possiamo veramente andarci a prendere il mondo, solo che ce lo dimentichiamo. Senti, tu ti sei andata a prendere il mondo, però l'hai fatto grazie alla tua famiglia, qui ma non solo la tua famiglia perché le ultime, guarda le voglio contare, sono una, due, tre, quattro pagine. Quattro pagine di ringraziamenti. Sono tanti. Sono tante quattro pagine di ringraziamenti, però quando le leggi ti rendi conto che effettivamente attorno a te si è creata proprio una rete di solidarietà, che non è che come dire persone sconosciute, i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi cugini, tuo fratello, tua madre, tuo padre, un gruppo di persone che veramente ti ha aiutato e grazie alle quali tu sei riuscita a riprendere, a camminare, e poi non a camminare, ma a essere campionista italiana sui 100 e 200 metri. Guarda, in effetti è la cosa bizzarra che quando la Mondadori, insomma, quando ho finito il libro, giustamente l'editore mi ha detto, ma amore mio, i ringraziamenti in genere sono due righe, al massimo quattro pagine si fanno di prefazione. Io ho eliminato completamente la prefazione perché ho detto, io questo libro, se lo devo fare, deve assolutamente esserci, devono esserci ringraziamenti. Non ho neanche nominato tutti perché veramente sono stati tanti, io finisco, se ricordo bene il libro, si conclude dicendo Dio manda nella vita di ognuno di noi le persone necessarie che fanno sì che diventiamo ciò che eravamo destinati ad essere. E io ho incontrato voi, sono tante le persone che io ho incontrato e che io devo ringraziare. Questo libro l'ho fatto non tanto per me quanto per ringraziare loro perché io da sola non sarei arrivata dove sono arrivata. Senti ma è vero che i poliziotti che ti hanno soccorso, poi sono tornati in ospedale dopo qualche giorno, sono venuti lì, hanno portato un pensiero. Sì, anche quelli della pattuglia dell'ANAS, anche i medici che mi hanno soccorsa, è stato bellissimo vederli. E devo dire che io sono ancora in contatto con loro perché amo condividere insieme a loro tutti i traguardi. Li sento ancora, a Natale ci mandiamo gli auguri, quando faccio qualcosa di bello gli mando un'email con la foto perché devono essere loro fieri più di me perché hanno contribuito a salvarmi la vita. La tua famiglia però è il nucleo fondante di tutta questa pattuglia di persone che ti ha circondato e che ti ha veramente proprio sostenuto e portato avanti. Mi piace sottolineare che spesso gli affetti noi li diamo per scontati, tutti in generale perché l'affetto di una mamma è scontato, di un padre è scontato, di un fratello. Sembrano tutti affetti scontati, anche quelli dei cugini. Non è così, io ho scoperto che non è così perché ho incontrato tanta gente sola. Io ho conosciuto molta gente sola che non ce l'ha fatta, gente che si è tolta la vita perché non riusciva a più guardarsi allo specchio, gente che non sapeva come andare avanti, gente che... Io ho avuto una grande fortuna, oltre ad avere una grande fede. Il fatto che la mia famiglia, nonostante i miei genitori siano divorziati da tanti anni, si sia riunita e poi ho avuto degli zii, dei cugini, veramente gli amici che sono stati io, le mie migliori amiche di sempre, con tutto che non ci vediamo mai ma siamo amiche da piccole, sono state le mie sorelle. Facevano una gara a chi doveva dare il cambio di notte a mia madre, mi portavano le cose più stupide. Ecco, una parola, la compagnia, un sorriso, quello è stato determinante per non crollare. Allora, tantissimi delle spettatori ci stanno chiamando, Giussi, iniziamo con Anna Daterni. Buon pomeriggio, Anna. Buongiorno, buon pomeriggio. Senta, io vorrei parlare con la signora Giussi. E qui la sente, la sente. Io sono una mamma di una ragazza che cinque anni fa, in seguito a una meningite, che sono stata amputata le gambe. E in lei, in Giussi, ripeto mia figlia, perché mia figlia ha la stessa forza, la stessa cosa di farci forza a noi, la stessa fede nel Signore. Anche lei ringrazia il Signore di essere in vita. E la stessa luce che vedo in Giussi, le vedo negli occhi di Giussi, le vedo anche nella mia figlia. e gli dico a Giussi, di andare in televisione, di parlare come sta facendo, proprio per portare avanti questo discorso di serenità e di gioia che uno può avere sempre nella vita, nonostante tutte le difficoltà. Ed è proprio vero, se alle spalle c'è una grande famiglia, tutto si supera e tutto va avanti con le difficoltà, perché un pochino ci sono, il percorso è stato lungo, doloroso. Anche mia figlia, non solo l'apputazione delle gambe, ma ulteriori operazioni, cose perché lei ha avuto la pelle devastata dalla meningite e quindi ha avuto delle difficoltà. Però una ragazza forte e dolce, gioiosa, nonostante tutte. Io ringrazio Dio per avermela mantenuta in vita e lei stessa ha ringraziato le prime cose, mi ha detto mamma, potevo essere morta e invece sono viva e quindi dobbiamo ringraziare il Signore. Lei ha scritto delle cose bellissime verso il Signore, ringraziandolo sempre della gioia di averla mantenuta in vita. E in Giussi vedo mia figlia. Vedi sua figlia. La ringrazio Signora. Sono un po' presentuosa, però è così, io la vedo così. Ed è una bella ragazza come lei. Mora è uguale. Grazie Signora. E la vita è l'amante uguale. Perché adesso si sentono tanti ragazzi che si ammazzano. Ultimamente uno che gli faceva a nuoto in piscina, insomma come si dice, no il viso terapista, comunque quello che faceva la riabilitazione in piscina all'età di 38 anni si è ucciso. È una cosa che ti fa male il cuore. Posso ringraziarla anche io? Come no, certo. Signora, grazie per la chiamata, grazie per le belle parole. Posso permettermi di fare i complimenti a lei? perché se sua figlia è riuscita ad essere così solare e coraggiosa è anche perché ha una mamma forte, no? Che l'è stata vicina. Ma la mia figlia è più forte di me. Si fa forza a vicenda. Brava, grazie. Grazie Signora. Buonasera. Buonasera. Grazie. Però dici, io faccio l'avvocato del diavolo. Ecco, ecco, aspettavo, ho detto, com'è che ancora non mi ha fatto una domanda? No, no, le domande scomode non le voglio fare. Però, diciamo, dici la vera, ma è possibile che tu non hai mai un momento di sconforto, mai un momento in cui dici, ma... ce la faccio più. Ce l'ho. Ce l'ho, l'ho avuto. Sicuramente il momento più difficile è stato anche quando sono tornata a casa, mi sono resa conto, guardando l'armadio, che buona parte dei miei vestiti non li avrei potuti più mettere. Quando ho dovuto riempire il sacco nero con tutte le tacche a spillo. Ce l'ho. I primi tempi mi soffermavo spesso davanti a una vetrina, per esempio. Io passeggiando mi incantavo davanti alle vetrine, pensando alle mie gambe, pensando a come ero prima, pensando a con quale facilità. Una volta entravo in un negozio e mi provavo un vestito in un camerino e adesso se non c'è uno sgabbello nel camerino io neanche penso di entrarci nel camerino. Però adesso momenti di sconforto non ce li ho più quando passo davanti alle vetrine. Non ce li ho più quando apro l'armadio. Ce li ho quando ho le feritine, quando sono stanca o quando dopo una giornata intensa torno a casa la sera e mi devo smontare e mi devo togliere le gambe. Sono a letto con il mio handicap e mi devo massaggiare le cicatrici, prendere cura della pelle. mi viene un po' di magone e penso a quanto è stato duro e a quanto probabilmente sarà duro. Però di mio non amo lamentarmi. Quindi in realtà... Dura 30 secondi. Dura veramente 30 secondi e poi trovo qualche altra cosa da fare a cui pensare. Poi sicuramente non lo esterno con gli altri. Cioè se sto male mi chiudo in bagno e sto male da sola ma non lo trasferisco mai agli altri. Non amo lamentarmi. Io trovo che più si è positivi nella vita più ci si attira positività. Sorridi che la vita ti sorride. Sorridi. È vero, è la verità. La verità. Oggi voglio dire siamo a Roma, pioveva e allora di pranzo è uscito il sole. È un buon motivo per cui ridere oggi. Ho tirato fuori gli occhiali da sole e vuoi mettere? Senti, io adesso voglio chiamare la mia collega Gabriella per condividere questo bel momento. Una donna. Una donna. Per condividere questo bel momento insieme a te. Però ti volevo dire che a me la cosa che più mi ha emozionato non è stato quando tu hai raccontato quello che ti è accaduto perché tu descrivi nei minimi dettagli l'incidente, il fatto che tu sei rimasta lucida. A me mi ha colpito quando tu hai scritto nei ringraziamenti tornando alla pagina dei ringraziamenti. Tu hai scritto grazie a mamma per aver pianto insieme a me tutte le volte che mi hai aiutato a fare la doccia e a papà tutte le volte che mi hai aiutato a mettere le protesi. Insomma, questa immagine di voi due che fate la doccia piangendo mi ha proprio fatto venire la teledoca. L'hai fatta venire anche tu a me adesso perché io l'ho scritto ma volutamente non l'ho più voluto rileggere perché nel rileggere il testo finito e anche ringraziamenti pur essendo la mia storia pur avendola raccontata e poi anche scritta mi sono io stessa emozionata. Io in realtà ho come dire motivato i ringraziamenti per non renderli noiosi. Sarebbe stata una lista di nomi infinita ma in realtà io dovrei dire grazie a mio padre e a mia madre per un sacco di cose per mille però guarda quelle di due foto però ho memorizzato diciamo le cose che più mi sono rimaste impresse io all'inizio facevo veramente fatica a mettere le gambe erano pesanti e facevo fatica a infilarci dentro il monconcino perché mi faceva male e mio papà mi aiutava spesso a fare questo io ci mettevo mezz'ora solo per alzarmi dal letto adesso ci metto 5 minuti ci metto di meno un bel salto e soprattutto che se le metto da sola prima avevo bisogno di lui questo è stato cioè importante perché per diversi mesi è venuto a darmi una mano io non riuscivo a fare le scale e lui per agevolarmi mi prendeva in braccio o mio fratello quando vedeva che io ero stanca e me le volevo togliere anche se ero sul divano me le faceva togliere mi diceva dai che poi ti accompagno io a letto ecco sono state questi piccoli gesti hanno fatto la differenza solo che uno adesso mi vede camminare mi vede correre e non ci pensa ma dietro c'è stato tanto lavoro io stessa adesso mentre ne parlo mi rendo conto che sono passati 7 anni quasi 8 e sono tantissimi sono pochi ma stesso tanti guardandomi indietro mi dico io stessa ma come ho fatto a fare tutte le cose che ho fatto? 7 anni i sacrifici sono lunghi non lo so non lo so io Vito sono colpitissima ma come tutti molto colpita dalla tua domanda sui ringraziamenti ancora di più della risposta di Giuse c'è una frase che io oggi mi porto a casa che tu hai detto la devo ripetere perché era talmente bella hai detto io ho messo con ringraziamento ho chiesto ho pregato perché Dio faccia incontrare alle persone quelli che le aiuteranno a diventare ciò che sono destinati ad essere io volevo la trovo una cosa meravigliosa volevo domandarti so che c'è un personaggio di un romanzo che le nostre telespettatrici sicuramente ricordano che tu ami molto che è Polianna che ogni giorno deve trovare una ragione per ridere allora quando tu ti svegli la mattina che ragione trovi per portarti questo bel sorriso attraverso tutta la giornata o quasi tranne quei momenti brevissimi quei 30 secondi di scoraggiamento ma il gioco di Polianna come l'ho chiamato io mi ha aiutato tanto nel periodo in cui io non ero in grado di camminare tanto da sola e quindi ogni giorno trovavo un motivo per cui ridere ecco perché ho detto oggi è uscito il sole è un motivo per cui sorridere tiri fuori gli occhiali del sole che a Milano devo dire io vivo a Milano non sempre capita di sopravvi li uso poco e questo è stato utile io non lo so dove trovo questa energia e non lo so io amo la vita io proprio sono io ho una grande voglia di vivere una tremenda voglia di vivere io non so stare ferma anche a casa quando sto non lo so quei pomeriggi che tu dici ti vuoi rilassare e sei a casa io dopo un'ora mi annoio devo fare qualcosa allora sposto il mobile sposto il divano guardo la parete che è fucsia decido di cambiargli il colore devo fare sono adrenalinica e questo mi carica mi aiuta poi guarda se ne parla poco ma io ho scoperto il volontariato sembrerà banale noi abbiamo visto delle immagini tu e all'URD eccole meravigliose spettacolari voglio dire vado cioè io con le gambe finte non riesco a fare tantissimo al refettorio aiuto servo i tavoli aiuto a mangiare le persone che non riescono a mangiare da sole regalo un sorriso io so fare quello perché nel messaggio di Giussi quello che passa Vito è che si possono fare tante cose no? però non si fanno senza gli altri cioè amandoli ma anche lasciandoci sorreggere guarda io ho scoperto che se fai qualcosa di buono e lo condividi con gli altri ti torna indietro come un boomerang positivamente raddoppiato si perché fai bene a te cioè mentre fai bene a degli altri fai bene anche a te stesso e questo sicuramente carica per cui il volontariato è anche un modo per davvero aiutare ma aiutarsi andiamo adesso a Palermo c'è la Antonina la nostra telespettatrice buonasera Antonina buonasera buonasera ci dica tutto ciao Giussi ciao buonasera io ti do del tu forse ti posso venire anche nonna non lo so come sempre come te la seconda volta che ti sentiamo e come sempre ti devo ringraziare perché sei un vulcano un vulcano di serenità di coraggio di tutto volevo farti una domanda specifica Giuse Gianfranco e Tiziana di Castrovillari ti dicono niente? beh Gianfranco è il poliziotto giusto? che ti ha aiutato? eh sì allora ti dico una cosa io per caso sono venuta a sapere siccome io conosco Tiziana perché tu lo sai Tiziana è di Palermo eh sì non eh quindi tramite la madre sono venuta a sapere le ho detto che avevo parlato con te in televisione e le ho detto che non è molto da incontrato a casa di sua figlia io in questo momento faccio non focalizzo però le chiedo scusa però probabilmente sì ti chiedo scusa però tra le tante persone che hai conosciuto tante persone sicuramente può essere però insomma comunque Gianfranco sicuramente te lo è lui che ti ricordi perché giustamente è quello che ti ha aiutato forse Tiziana è la moglie probabilmente sì la moglie ah ok ok vedi ti chiedo scusa non avevo collegato e lui è uno di quei poliziotti che ancora oggi sento e ringrazio dico per caso io sono venuta a saperlo dopo che ti avevo sentito la ringrazio signora buona serata che ti devo fare non ho parole perché i complimenti non sono mai sufficienti per te io ti ti raccomando e ti prego di trasmettere sempre questa forza e questo coraggio che hai sempre alle persone che molto spesso o molto meno della tua sofferenza ci lasciamo prendere dalla dell'angoscia grazie grazie mille mi rincuora grazie mille abbiamo fatto fatica un po' a focalizzare ma una volta no no collegato perché era la moglie di lui sì non ricordavo che lei si chiamasse Tiziana però vedi come piccola adesso sì 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 mi fa piacere allora Gesine ti ringrazio tantissimo grazie a voi è stata una bella chiacchierata e poi soprattutto sono felice se questo libro può trasferire qualcosa di bello e può ridare fiducia a quelle persone non necessariamente invalide ma che stanno vivendo un momento di difficoltà perché stiamo vivendo tutti in Italia però insomma amiamo la vita perché è bella e facciamo peccato a lamentarci possiamo gioire anche per un piatto di pasta condiviso con un amico secondo me se vogliamo è così grazie Grazie a tutti.